Sono arrivato a Vilafranca nel 1954 e ho trovato che c'era già la pattuglia in attività praticamente, con De Giovanni comandante e i gregari erano Marsilli, Blatelli e Pille Picci. Poi subentrò anche Tomeucci. C'erano i Guizzo, dalla quale poi scaturì anche un film con la Dawn Adams e i compagni. Guizzo era il numerativo radio del 103esimo gruppo di cui faceva parte il comandante della pattuglia e allora probabilmente per quello le avevano dato il nome Guizzo. Gli altri gruppi potevano anche prendersela male perché lì erano tre gruppi a Vilafranca, Guizzo, Luce 102 e Lampo 101. Poi c'era una grossa rivalità, probabilmente qualcuno ha protestato e allora da qui sono diventati Getti e Tonanti che poi era il nome tradotto di Thunderjet. anche se è un po' di madre per Suita. Gli altri gruppi potevano anche dal